Dunque non è una problematica di soldi perché in questo momento dal 28 di agosto come giunta abbiamo deliberato una maggiorazione di altri 100.000 euro per questo impianto sportivo importantissimo. Il tema è un cantiere molto complicato perché è una palestra che intanto è altissima, è di 8 metri e nei lucernai addirittura raggiunge 10 metri, sono 2,20 metri di lucernai. Quindi è un cantiere complicato anche da gestire per gli operai stessi che ci lavorano. E quando siamo andati a togliere i primi strati del tetto ci siamo accorti che la soluzione era molto più complicata la situazione. E quindi è un tema di gestione di un cantiere complicato. Mi rendo conto del disagio perché per quanto riguarda il mondo del calcio 5 abbiamo risolto perché si è spostato in parte al circolo trave e in parte, li ringrazio, la Sportland si è mossa su Lucrezia. Per quanto riguarda le scuole il mattino sono state dirottate quindi anche i bambini sono al sicuro per l'educazione fisica, c'è un po' di disagio nello spostamento. Manca tutta la parte pomeridiana dell'Olimpia. In questo momento chiedo anche un appello ad altre società per fare spazio perché dovremo trovare una soluzione alternativa. immaginate solo che questo cantiere che durerà 45 giorni di lavori intensi, meteo permettendo, ma verrà gestito tutto internamente con dei ponteggi che vengono montati tutti manualmente perché la porta è piccola, non ci passa un muletto, è un cantiere molto complesso, una delle prime volte che comunque ci si trova in difficoltà anche con un cantiere di questo tipo. L'importante è che come comune risolveremo la situazione e duri per almeno 20-30 anni un intervento del genere. Quando è previsto l'intervento? Quanto potrà iniziare l'intervento? In questo momento ci sono ancora delle procedure burocratiche per individuare la ditta, non si affida la prima ditta che si incontra per strada, c'è una procedura pubblica. Da fine novembre saremo pronti con la ditta a concordare l'inizio dei lavori, come ripeto 45 giorni di lavori, meteo permettendo perché siamo arrivati in una situazione in cui piove e quindi va gestito un lavoro sul tetto con le piogge.